La sera del 10 luglio 1996, Francesco Tammone, agente scelto della Polizia di Stato, riceve la segnalazione di una rissa in corso in un bar di via Tirreno a Potenza. Quando arriva sul posto, insieme a un collega, si trova davanti Francesco Patierno, pluripregiudicato, in regime di semilibertà. La richiesta di vedere i documenti, il rifiuto di Patierno, poi la fuga e la sparatoria. Tammone viene colpito e muore prima dell'arrivo dei soccorsi. Aveva 26 anni, era sposato e da due mesi era padre di una bambina. E poi la beffa. Quella sera Patierno sarebbe dovuto tornare in carcere, dove stava scontando una condanna a 4 anni per rapina. L'ondata di commozione che seguì all'omicidio del giovane poliziotto portò l'amministrazione comunale di Potenza a intitolargli una strada. Ed è proprio quella targa che è stata imbrattata di vernice con segno sceni. A 25 anni dalla sua morte, denuncia libera a Basilicata, la città sembra aver dimenticato il sacrificio di Tammone. Immediata la solidarietà del sindaco di Potenza Mario Guarente alla famiglia del poliziotto e ferma condanna nei confronti del gesto, arriva anche dalle autorità nazionali. È indegno. Chi infama gli uomini e le donne in divisa, verbalmente o fisicamente, mette le mani addosso allo Stato. È dovere dello Stato difendere le proprie istituzioni, è dovere dello Stato difendere i propri uomini e donne in divisa. Intanto l'amministrazione comunale non ha perso tempo. Questo pomeriggio la targa è stata ripulita, nella consapevolezza che la lotta alle mafie passa anche e soprattutto dalla conservazione della memoria.